Oggi, domenica 10 e lunedì 11 ottobre, si vota per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, un'importante tornata elettorale a cui sono chiamati al voto 4.606 elettori di Mistretta, dopo sette lunghi anni. Seggia aperti questa mattina a partire dalle 7. A Mistretta, come negli altri 42 comuni siciliani chiamati al voto per il rinnovo delle cariche elettive, rimarranno aperti fino alle 22 di oggi, mentre lunedì si voterà fino alle 14. L'affluenza a Mistretta, registrata alle 12 nel primo giorno di votazioni di quella che sarà una lunga domenica, è dell'11,29%, con 520 votanti a Mastratini che si sono già recati alle urne. Alle precedenti consultazioni elettorali di Mistretta del 25 maggio del 2014, anche se va ricordato che era previsto una sola giornata per poter esprimere il proprio voto, l'affluenza alla stessa ora era stata del 15,90%, con 756 votanti su 4.756 elettori. Nel 2009 invece è del 22,41%, per un totale di 1.081 votanti sui complessivi 4.823 elettori, unica rilevazione di quel 6 giugno in cui i cittadini e Mastratini si recarono alle urne a partire dalle 15 e per tutta la giornata del 7 giugno del 2009. Sui Nebro di oltre a Mistretta si vota anche a Capodorlando, Caronia, Ficarra, Galatima Mertino, Patti, Gioiosa Marea, San Marco d'Alunzi e Sant'Angelo di Brolo. Per recarsi a seggio servirà la mascherina, ma non occorrerà esibire il Green Pass.